Ciao, bentornato oggi sul canale Spettacoli Televisivi, con notizie come Camilla Parker Bose è arrivata al suo 75esimo compleanno, ma, nonostante l'età che avanza, vanta una forma fisica a dir poco smagliante Ma come fa? La donna ha, finalmente svelato il suo segreto Camilla ha rivelato orora il segreto della sua bellezza e della sua forma fisica assolutamente al top nonostante abbia superato da un po' i 70 anni di età Camilla Parker Bose, prossimamente regina consorte accanto al suo Carlo Da qualche tempo a questa parte Camilla Parker Bose appare sempre più spesso in pubblico, da sola e, o, in compagnia del marito Carlo Se un tempo veniva considerata semplicemente la rivale dell'amata Lady Diana, oggi è riuscita a riconquistare, pian piano la fiducia dei sudditi Diventando ormai una sorta di punto fermo all'interno della famosissima e chiacchieratissima Royal Family La regina Elisabetta II come è ormai cosa ben nota si è vista costretta a ridurre drasticamente i suoi impegni ufficiali per motivi di salute ed allora il figlio Carlo ha preso il suo posto in molte occasioni Al suo fianco poi non manca mai la moglie, che un giorno sarà regina consorte e, come si nota dalla sua recente evoluzione di stile, sta facendo il possibile per ricoprire questo ruolo al massimo grado, nonché in una forma fisica a dir poco smagliante Ma quale è il suo segreto di bellezza? È un punto di riferimento per le over 70 Camilla Parker-Bolls ha raggiunto i 75 anni lo scorso luglio ma, nonostante l'età che avanza, vanta sempre una forma fisica davvero al top ogni volta che appare in pubblico Inoltre possiede uno stile assolutamente vincente che la rende unica Tra Luca l'ultima moda, gioielli preziosi e capelli sempre in perfetta piega, lei ha realmente tutte quante le carte in regola per essere considerata una vera e propria icona dalle over 70 Ma a questo punto le sue donne della sua età che tanto la ammirano ma che anche sotto sotto un po' la invidiano, vogliono sapere quale dieta segua la duchessa per essere ancora così bella e in forma Una dieta bilanciata ed equilibrata.La moglie di Carlo sembrerebbe consumare piatti semplici e genuini, concedendosi di tanto in tanto qualche strappo alla regola con delle ricette sostanziose a base di salmone, carne e pollo arrosto La dieta equilibrata di Camilla includerebbe anche prodotti freschi come frutta e verdura, meglio se coltivati nella propria terra La duchessa è sempre stata una grandissima appassionata di giardinaggio e coltivazione, Hobbies che l'hanno avvicinata molto al principe Carlo che da ragazzo possedeva un orto tutto suo Grazie per aver guardato l'intero video. La notizia è qui per finire, mettete mi piace e commentate, in particolare cliccate iscriviti al canale, per ricevere le ultime notizie Ciao e ci vediamo nei prossimi video Grazie per aver guardato il video Grazie per aver guardato il video Grazie per aver guardato il video